I cittadini rumeni, marocchini e albanesi sono quelli più presenti numericamente e sappiamo essere anche quelli più presenti da lungo tempo sul territorio. Quindi da un lato abbiamo i processi di stabilizzazione e dall'altro lato ovviamente abbiamo anche rilevato l'impatto della pandemia da Covid-19 sulle dinamiche migratorie. Ci sono i processi di stabilizzazione in corso da più di 10 anni e i 135.356 stranieri residenti in Puglia arrivano da 167 paesi e sono il 3,4% di tutti i residenti in regione, numeri costanti negli ultimi tre anni. Ma c'è pure l'impatto della pandemia. A tracciare il quadro il rapporto immigrazione 2021 firmato CGL. A Taranto l'incremento maggiore, Bari e Brindisi, le province che rintracciano un leggero decremento con lo zero davanti. L'emergenza ha influito sulla diminuzione di iscrizioni e cancellazioni dall'estero e soprattutto sui permessi di soggiorno, specie per motivi di studio. Crollati del 70%. Gli indicatori economici hanno retto sì, ma a crescere è stato anche il dato sulla disoccupazione femminile. In Italia i cittadini rumeni rappresentano la comunità più grande, più da 1.100.000 persone. In Puglia parliamo ufficialmente da 35.000 persone, da cittadini rumeni. Ci sono più di 1.000 imprese albanese che fanno le loro attività qui in Puglia, tantissime altre attività più piccole. Volevo dire che in questi anni abbiamo anche tantissimi italiani che vanno e fanno le loro attività in Albania, sono 20.000 italiani. Soprattutto nel sistema dei servizi, tutto il sistema legato al commercio, tutto il sistema legato a una serie di attività deboli in realtà, perché stiamo parlando di un sistema debole di produzione nel sistema commerciale, ovviamente ha penalizzato soprattutto le donne italiane e migrate.